Stai provando a guadagnare dei soldi online vendendo le tue fotografie su piattaforme di stock o di microstock? Oggi vado a raccontarti quali sono alcuni generi fotografici su cui è meglio non puntare e in particolare anche alcune fotografie che è proprio meglio non caricare mai. Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se questa è la vostra prima visita vi invito subito a iscrivervi così mi aiutate con l'algoritmo, attivate anche la campanella perché se volete crescere come fotografi e sviluppare la professione anche in ambito microstock per avere delle entrate extra questo è il canale che fa per voi. Io sono Cesare e oggi registro questo contenuto per illustrarvi quelli che sono alcuni generi fotografici che in microstock o non funzionano o sono proprio vietati. Prima di cominciare vi invito a guardare questo video fino alla fine perché i due punti che tratteremo alla fine del video sono quelli più rischiosi per la vostra permanenza all'interno del mercato del microstock. Faccio questo video per aiutare gli utenti che si stanno affacciando a questo mondo affinché evitino delle fregature come spesso e volentieri sono capitate a me perché non c'è niente di peggio in ambito microstock che investire tempo, energie e perché no anche denaro nella realizzazione di un set fotografico per poi scoprire che questo set viene rifiutato dalla maggior parte delle piattaforme. Esistono proprio delle tipologie di fotografie o anche di video se è per quello che vengono rifiutati sempre e comunque per problemi di copyright o per problemi etici. Andiamo a vedere quali sono. Ora sappiamo benissimo che ci sono delle tipologie di fotografie soprattutto editoriali che sono sempre molte richieste e vi faccio un esempio su tutti le fotografie dei prodotti apple sono sempre molto richieste io stesso ho fondato un impero sulla compravendita di fotografie di prodotti apple io mi ricordo quando mi regalarono il primo ipod della mia vita che era l'80 giga quello nero bellissimo fra l'altro me l'hanno rubato i muratori in casa bastardi era un oggetto meraviglioso design rivoluzionario quando è uscito una roba fantastica io mi ricordo che scattai tre o quattro foto di quell'oggetto foto che ho ancora e foto che io vi dico solo che vendono ancora oggi quindi io da quel piccolo oggetto che era costato 300 euro una roba del genere al di là del fatto che non li avevo spesi io perché me l'hanno regalato ma io vi assicuro che da quel piccolo oggetto io ho guadagnato più di 300 euro ma molto di più questo per dirvi cosa per dirvi che i prodotti apple sono sempre stati molto comprati microstock però c'è un però da qualche tempo ho notato che alcune piattaforme anche importanti mi rifiutano le foto di prodotti apple quando questi sono il main focus dell'immagine quindi se io faccio una fotografia di una bella ragazza alla fermata del tram che tiene in mano un iphone quello va bene però se io faccio una foto di un iphone in primissimo piano tenuto in mano oppure di un iphone su sfondo bianco quella mi viene rifiutata con la motivazione che il design di questo prodotto è coperto da copyright cose di questo tipo quindi non su tutte le piattaforme ma su alcune possiamo incappare in questa problematica per fortuna non su tutte perché sono immagini che vendono sempre molto ma molto bene quindi è veramente un peccato che certe altre piattaforme rifiutino questo tipo di immagini io francamente non capisco il motivo esistono anche altre cose che vengono storicamente rifiutate ma non è sempre stato così e vi faccio un esempio un esempio su cui mi sono trovato a battibeccare anche con l'assistenza di queste piattaforme ma senza il minimo successo stiamo parlando della franchigia di star wars guerre stellari io sono un appassionato di cinema e quindi mi è capitato in vita mia di avere anche per le mani dei modellini dei diorama piuttosto che dei lego piuttosto che degli action figure di guerre stellari sono tutte cose che stimolano la mia curiosità e creatività e quindi spesso e volentieri mi sono anche ritrovato a fotografare questi oggetti e sono venute fuori delle immagini che non mi vergogno di dire secondo me sono pienamente vendibili per cui ho provato a caricare le mie immagini di guerre stellari su queste piattaforme con che risultato ve lo dico subito all'inizio quando le ho caricate hanno venduto ma una roba impressionante una roba che non ci si credeva una roba che io dicevo porca miseria action figure comprato in negozietto qui sotto per 16 euro prima settimana ho guadagnato 40 euro per la vendita di quella singola foto è una cosa che va è una cosa che funziona purtroppo veramente purtroppo ho riscontrato che questo tipo di immagini non sono più accettate su nessuna piattaforma tutte le piattaforme di stock e di microstock su cui ho provato a caricare successivamente immagini con tema guerre stellari mi hanno sempre sempre rifiutato le immagini con la motivazione che si tratta di cose protette da copyright probabilmente disney è andata a rompergli le scatole gli ha detto guarda se tu vuoi le foto di quella roba lì le venite a chiedere a noi non le prendete a caso da gente che l'ha fatta a casa probabilmente è andata così ed essendo disney apple due imperi piattaforme di microstock hanno chinato la testa e gli hanno detto va bene è veramente un peccato perché vi dico le pochissime immagini le quattro immagini di guerre stellari che ero riuscito a caricare prima che bloccassero tutto vendono ancora oggi e non hanno neanche venduto per poco quindi è veramente un peccato poi è vero anche che magari qualche piattaforma le accetta ancora quelle su cui sto io ho rinunciato perché me le rifiutano sempre con la stessa motivazione sempre con la motivazione che non è che c'è rumore non è che è sfocata ma proprio con la motivazione non accettiamo questa tipologia di immagini quindi ho tristemente rinunciato e ma peggio per loro è perché erano guadagni per me ma guadagni anche per loro cioè se io prendevo il 10 per cento loro prendevano il 90 si sono giocati loro il 90 cioè padronissimi va bene così ovviamente va da sé che fotografie che hanno per tema principale la violenza o la discriminazione molto probabilmente verranno rifiutate è vero che come microstocchisti noi dobbiamo cercare di rappresentare un po quello che è la realtà quindi se ci sono temi da trattare come la guerra o la violenza abbiamo la possibilità di farlo però le nostre immagini dovranno sempre essere un po blande un po all'acqua di rose cioè se facciamo delle cose splatter molto violente gratuitamente violente siamo abbastanza certi che verranno rifiutate per una questione da un lato etica ma dall'altro anche cioè lo capiamo tutti che se facciamo una foto di una persona che tortura qualcuno verrà rifiutata perché è un contenuto troppo forte per lo stock e per il microstock è una cosa troppo forte vengono parimente rifiutati automaticamente anche tutti i contenuti che istighino in qualche maniera all'odio quindi è vero che noi in qualche maniera possiamo fare dei contenuti fotografici che parlino di integrazione piuttosto che di razzismo però sono sempre molto borderline e o facciamo dei contenuti che sono palesemente inclusivi oppure vengono rifiutati automaticamente questa è una cosa che secondo me ci sta anche ma fino a un certo punto nel senso che io magari potrei voler rappresentare quelli che sono i concetti negativi della non inclusività faccio molta fatica a farlo perché spesso mi rifiutano le immagini perché potrebbero essere immagini fraintendibili e fraintese quindi mi vengono spesso rifiutate io vi porto quella che è la mia esperienza poi non vi sto dicendo di non fare per niente questi temi fotografici se avete la possibilità di farli vi vengono bene siete bravi siete appassionati provateci al massimo ve le rifiutano però tenete a mente che è possibile che ve le rifiutino quindi non assoldate un cast di 150 attori pagati per fare una scena di discriminazione perché poi magari ve la rifiutano un'altra cosa un po delicata sono gli scatti chiamiamoli così artistici e gli scatti di nudo e gli scatti anche palesemente porno questa è proprio una categoria di immagini che difficilmente viene accettata diciamo che un ambito di microstock non è un ambiente in cui mettere le foto delle ragazze nude che abbiamo fatto nel corso della nostra vita non è questo l'ambito per almeno due ottime ragioni il primo è che ovviamente qui si va a cercare di promuovere una comunicazione al passo coi tempi quindi una comunicazione che non abbia tematiche di genere trattate in questo modo quindi tutte le pose allusive tutte le cose la donna vestita da poliziotta sexy con il frustino queste sono tutte cose che vengono rifiutate automaticamente perché fanno parte di un modo di comunicare reputato vecchio secondo me non lo è sempre attuale perché finché c'è gente che le guarda vuol dire che non è una cosa vecchia però vengono reputate un metodo di comunicare la donna un po antiquato e quindi non al passo coi tempi e quindi non vengono accettate il secondo motivo è che di queste foto è così strapieno internet che basta contattare un fotografo e chiedergli se si può usare la sua immagine quello sarà ben felice di di darvela per niente proprio per il piacere di vedersela pubblicata quindi diciamo che è una cosa che va un po da sé quel tipo di fotografie per quanto riguarda il microstock sono completamente inutili e comunque vengono anche rifiutate quindi è proprio inutile postarle inoltre quando si postano fotografie di nudo chiamiamolo come vogliamo noi possiamo nasconderci dietro un dito dicendo sì è nudo artistico allora ragazzi io conosco due persone nel mondo che fanno nudo artistico tutti gli altri stanno dicendo a delle povere disgraziate che non hanno capito bene la situazione senti mettiti qui e spogliati che ti faccio due foto questo è il 98 per cento dei fotografi contro il 2 per cento invece che fa veramente fotografia artistica diciamo così quelli che fanno veramente fotografia artistica non fanno microstock perché hanno ben altri clienti il 98 per cento invece che fa spogliare una persona gli fa delle foto così un po a caso per bravo o non bravo che possa essere ma rimane un nudo gratuito non è il caso di metterlo sul microstock non è il caso di metterlo su queste piattaforme perché avrebbe ben poco mercato e comunque probabilmente vengono tutte rifiutate con delle motivazioni etiche e morali quindi è inutile postare questo tipo di contenuti diverso ovviamente è se postiamo dei contenuti anche di nudo con l'intento di andare a raccontare quelle che sono delle tematiche sociali piuttosto che sessuali per esempio io mi ricordo di aver visto diverse foto con un vedo non vedo con un nudo un pochino più nascosto per andare a raccontare quelle che sono delle tematiche anche un po scottanti esiste questa tipologia di foto è più difficile da realizzare e per andare sul sicuro a questo punto dovreste copiare quello che è già stato fatto da altri che vanificherebbe un po tutto il vostro sforzo creativo e non vi farebbe venire fuori nella nicchia che state andando a cercare di colpire quindi diciamo che per come la vedo io fare fotografia di nudo per microstock non conviene anche perché tenete conto che quando voi prendete una ragazza una modellina chiunque sia e gli dite spogliati questa probabilmente lo farà però vorrà essere pagata e anche bene perché comunque sono le sue foto nuda che state prendendo quindi vorrà dei soldi ora questo non è una cosa brutta perché è giusto pagare una persona che offre la propria immagine soprattutto in un contesto così delicato è assolutamente giusto pagarla e anche pagarla tanto però io vi segnalo che probabilmente non vi tornano indietro quei soldi e quindi a questo punto non vi conviene proprio farlo perché voi state investendo dei soldi e la state pagando subito poi tornate a casa e scoprite che le foto vengono rifiutate e vi trovate lì con un servizio fotografico che non potete riutilizzare quindi io ve lo segnalo come sempre non vi dico non fatelo punto vi dico state attenti se lo fate perché rischiate di andare in perdita altre cose su cui è bene non puntare troppo sono fotografie che in qualche maniera contengono opere protette dal diritto d'autore e appartenenti ad altre persone faccio un esempio se fate delle fotografie in un museo e ci sono i quadri appesi e i quadri non sono vostri i quadri sono di qualcun altro per cui voi non potete vendere come creativo un contenuto che ha come focus l'opera di qualcun altro se noi facciamo una fotografia della venere di botticelli quella è una foto che non possiamo vendere perché l'opera non è nostra è di botticelli e ma botticelli è morto essi ma non la possiamo vendere lo stesso perché ci stiamo appropriando di una cosa che non è nostra e questo vale un po per tutto se stiamo camminando per la strada e facciamo una bellissima foto del nostro modello della nostra modella con in mano un iphone come dicevamo prima però dietro c'è un cartellone pubblicitario di Andy Warhol e cavolo se l'agenzia di microstock reputa che questo manifesto di Andy Warhol sia predominante nell'immagine l'immagine viene rifiutata perché il focus dell'immagine è un'opera di un'altra persona quindi anche a queste cose bisogna stare attenti nel momento in cui l'opera d'ingegno di un'altra persona concorre in ampia misura a quella che è la resa del mio prodotto dell'ingegno a questo punto il mio prodotto dell'ingegno è vanificato perché sostanzialmente sto usando l'opera di un altro per far funzionare la mia questo vale anche in certi casi per gli edifici se io fotografo un edificio di un architetto famoso è molto probabile che io non possa venderlo come creativo al di là del fatto che nessuno lo comprerebbe come creativo perché è riconoscibile cioè vi faccio un esempio se io fotografo la casa d'oro che c'è dietro la fondazione prada vi faccio un esempio di una cosa che c'è qui a milano che ho visitato di recente se io fotografo la casa d'oro è un'opera molto riconoscibile è un'opera d'arte c'è una per chi non la conoscesse è una casetta piccola un paio di piani non è tanto alta che è completamente rivestita d'oro quindi da lontano sembra un lingotto d'oro scintillante è evidente che non è una casa qualunque che passiamo davanti e facciamo una foto alla facciata è un edificio molto riconoscibile e ovviamente al di là del fatto che nessuno comprerebbe una foto del genere per fare una pubblicità perché la pubblicità verrebbe vanificata da questo edificio che catturerebbe tutta l'attenzione quindi non è un buon affare ma non sarebbe neanche corretto farlo perché stiamo utilizzando un'opera di qualcun altro perché quell'edificio è un'opera di architettura e un'opera in qualche maniera artistica di qualcun altro adesso mi cospargo il capo di sale ma non conosco il nome dell'autore prometto di andarmi a informare ma al momento non mi sovviene proprio chi l'ha fatta quella casa d'oro lì però capite quello che voglio dire non possiamo prendere un edificio di design un edificio fatto da un architetto un edificio ragionato con determinati canoni e venderlo come immagine creativa non è il contesto adatto perché nessuno ce la comprerebbe primo e poi perché non ce lo lasciano fare cosa ben più importante perché se ce la lasciassero caricare uno dice vabbè io la carico e poi non la compra nessuno amene lì magari prima o poi qualcuno la prende invece ce la rifiutano ce la rifiutano proprio quindi edifici di architettura è difficile che ci concedano di caricarli spesso ci dicono te la rifiutiamo a meno che tu non abbia la liberatoria di proprietà che significa che devi andare dal proprietario fargli firmare un foglio su cui c'è scritto che ti autorizza a vendere le immagini della sua proprietà avete mai provato andare dal signor prada a bussare dire sentimi firmi un foglio che devo fare dei soldi con una roba tua non te lo darà mai quindi è inutile è completamente inutile è anche inutile provarci quindi certe cose io non vi dico non fotografatele però nel momento in cui le avete fotografate e ve le rifiutano è inutile continuare a provarci ve le rifiuteranno sempre perché la motivazione è quella allo stesso modo esistono delle location che loro reputano problematiche quindi molti scatti realizzati in location problematiche vengono rifiutati automaticamente tra questi vi cito per esempio gli stadi se facciamo delle fotografie dentro nello stadio molto spesso vengono rifiutate perché se lo stadio è in qualche maniera riconoscibile le piattaforme di microstock si tutelano e dicono no un momento per fare fotografie dentro in uno stadio bisogna chiedere al proprietario dello stadio e pagare racca di soldi per cui noi rifiutiamo le foto che non hanno la liberatoria del proprietario perché se il proprietario scopre che io ho fatto le foto di nascosto sul suo suolo poi cerca di rivalersi e dice quella era la mia proprietà dovevate chiedermelo adesso voglio dei soldi quindi per evitare questa problematica certe location vengono rifiutate di default così come spessissimo vengono rifiutate anche le fotografie fatte in villa vengono rifiutate anche le fotografie realizzate all'interno di proprietà private produttive quindi per esempio a me è capitato di realizzare fotografie shooting anche con modelli all'interno di comparti produttivi quindi la fabbrica piuttosto che l'azienda di medicinali ebbene queste immagini vengono rifiutate con la motivazione che ok c'è la liberatoria per il modello e va bene ma loro vogliono la liberatoria anche per lo sfondo quindi se siete andati dentro nell'umbrella corporation con un vostro modello e gli avete fatto una foto con dietro i laboratori faccio un esempio fantastico giusto per farvi capire servirà la liberatoria per il modello ma anche la liberatoria per il posto in cui siete per cui posto fantastico uno sfondo che non avrete mai più nella vita ma la foto viene rifiutata perché vi dicono se hai scattato in quel posto lì ci devi dimostrare che avevi il permesso per scattare in quel posto lì se no ti rifiutiamo l'immagine questo ovviamente è un peccato a questo punto va da sé che facciamo le foto in studio prendiamo un fondale da qualche parte e mettiamo un fondale in post produzione perché a sto punto è meglio perché se dovevo organizzare uno shooting in un'unità produttiva mi costava un sacco di soldi e invece farmelo da casa mi costa zero e con il microstock noi dobbiamo spendere zero perché non sappiamo quanto venderemo veniamo a una tematica un po recente un po appassionante le fotografie le immagini in generale realizzate con intelligenza artificiale stanno venendo bannate un po ovunque sono state bannate per prime da get images che come sempre essendo una delle forse la prima agenzia di microstock proprio a livello globale è stata anche la prima a dire no alle immagini generate da intelligenza artificiale questo ha ragione perché nel momento in cui io fotografo ma anche non fotografo inserisco una parola chiave all'interno di un generatore di immagini con intelligenza artificiale scrivo per esempio che ne so scrivo ragazza al tramonto questo algoritmo mi genera un'immagine quindi mi restituisce un'immagine ma quell'immagine è mia o è del calcolatore e la risposta purtroppo è che è del calcolatore perché l'ha realizzata lui quindi quell'immagine non appartiene a me appartiene all'algoritmo che l'ha generata in secondo luogo che cosa succede se dall'altra parte del mondo un'altra persona inserisce esattamente la stessa chiave è possibile che venga generata esattamente la stessa immagine o comunque un'immagine così simile da renderle non indistinguibili ma quantomeno da metterle in netta competizione sul mercato questa è una cosa che alle piattaforme di microstock non va bene perché da un lato espongono il fianco al fatto che i produttori di intelligenza artificiale un giorno vadano a reclamare a dire guarda che quelle immagini che avete venduto non sono di quei fotografi ma sono nostre sono state generate con i nostri motori di composizione artificiale questo è uno dei pericoli e l'altro pericolo è che il mercato di microstock venga invaso da tantissime foto uguali perché tutti quanti hanno inserito la stessa chiave quindi per questi due motivi le immagini sono state rifiutate prima da ghetti anche in maniera retroattiva quindi non verranno mai più accettate immagini generate con intelligenza artificiale sono state rimosse anche quelle caricate in precedenza e subito dopo è arrivata anche la decisione di 123rf che ha adottato sostanzialmente lo stesso provvedimento ovvero le immagini generate con intelligenza artificiale sono bannate con effetto immediato l'ultima tipologia di immagini che passiamo in resegna è quella di persone con la fisicità alterata è proprio di get images di nuovo la decisione di rifiutare tutte le fotografie che presentano modelli o modelle con il fisico alterato in post produzione questo per una questione etica di sensibilizzazione sul body positive e anche per andare a combattere un po quella che è la tendenza di certi social non faccio nomi ma avete capito tutto di presentare fisicità sempre perfette al di là del ridicolo cosa che poi nessuno di noi è nessuno di noi è perfetto quindi andare a presentare un modello di quel tipo è assolutamente controproducente perché stiamo parlando di professionisti del fitness e professionisti di bellezza che ci fanno apparire la loro normalità come se dovesse essere anche la nostra solo che noi abbiamo una vita e un lavoro da fare a differenza loro che passano la loro giornata a essere belli e quindi per noi è impossibile essere come loro e quindi questo ci porta in un loop di frustrazione infinita perché noi dobbiamo tirare la carretta portare il pane in tavola e quindi non abbiamo il tempo di passare la giornata in palestra e l'altra metà della giornata dal parrucchiere quindi non saremmo mai belli come chi fa quello di mestiere non saremmo mai belli come un professionista della bellezza questo ci genera frustrazione e oltretutto è anche un modello sbagliato perché non possiamo rincorrere quella cosa che non potremo mai avere un bel momento ce lo diciamo proprio ci guardiamo allo specchio ci diciamo è inutile rincorrere quella roba non ci arriverò mai e quindi è un modello che secondo me prima o poi verrà abbandonato ghetti in questo caso è stata pionieristica perché ha detto io rifiuto le immagini che hanno la fisicità alterata quindi se la vostra modello il vostro modello aveva che ne so aveva la pancia e gliel'abbiamo tolta con fluidifica di photoshop quella immagine non è più buona per le piattaforme di microstock per ghetti images almeno ma credo che a breve anche le altre si adegueranno stessa cosa se il nostro modello era mingerlino e gli abbiamo esaltato la muscolatura anche lì non va bene oppure se il nostro modello aveva il naso grosso e gli abbiamo rimpicciolito il naso anche quello non va bene la scelta di ghetti è chiarissima se volete una fisicità di un certo tipo andate a prendervi un modello una modella che abbia veramente quella fisicità perché allora state prendendo un professionista o una professionista della bellezza o del fitness e state scattando quella persona però che sia chiaro che sia quella persona non che chiunque possa ambire a quell'ideale di bellezza perché non è così e quindi farlo per finta è una cosa che non è più tollerata a questo proposito vi devo anche segnalare che per quanto riguarda tutto quello che abbiamo detto in precedenza provateci pure perché nel momento in cui caricate una foto esplicita vi viene rifiutata non succede niente nel momento in cui caricate una foto di un edificio di un architetto e viene rifiutata non succede niente attenzione però nel momento in cui caricate un'immagine di una persona con la fisicità alterata e non lo segnalate la foto non solo vi viene rifiutata ma vi viene anche chiuso l'account questo è quello che era riportato nel comunicato di ghetti e fidatevi di me li conosco abbastanza bene da sapere che non è gente che scherza quindi se hanno scritto che gli account che continuano a pubblicare immagini di persone con la fisicità alterata verranno terminati il vostro account verrà terminato senza nessuna notifica senza nessun avvertimento nel momento in cui caricate un'immagine che viola questa norma il vostro account verrà chiuso senza pietà quindi non fatelo allo stesso modo la stessa decisione è stata presa anche per quanto riguarda le immagini generate con intelligenza artificiale per cui rischiate veramente grosso se caricate una fotografia generata con intelligenza artificiale se fate finta che sia vostra e provate a postarla lo stesso è possibile che non vi dicano niente è possibile che non se ne accorgano è possibile però è un rischio perché se se ne accorgono vi fanno il mazzo se se ne accorgono vi buttano fuori vi avviso perché è un peccato farsi buttare fuori per un'immagine che magari neanche avrebbe venduto quindi è molto meglio rispettare quelle che sono le loro norme perché è casa loro e sono le loro regole se violate le loro regole vi buttano fuori senza il minimo preavviso senza dirvi neanche ciao e quindi io vi consiglio di non farle queste ultime due cose bene amici mi sono dilungato anche troppo questi sono secondo me i generi fotografici da non fare o comunque acquistare molto attenti quando si lavora per caricare le proprie immagini su una piattaforma di microstock è possibile guadagnare vendendo le proprie foto con il microstock bisogna stare attenti a non fare errori perché gli errori ci portano a perdere tempo a essere dispersivi e talvolta anche a perdere il nostro account perché può venire chiuso nel momento in cui violiamo una delle loro norme quindi bisogna anche andarsene a leggere perché spesso ci chiudono l'account e non capiamo nemmeno perché ed è veramente un peccato a questo punto io vi dico come sempre se volete qualche approfondimento su qualcuno degli argomenti che ho trattato in questo video e reputate che io non gli abbia dedicato la dovuta attenzione lasciatemelo sapere in un commento scrivetemi qual è la vostra esperienza se eravate sul microstock e vi siete disamorati quando shutterstock ha diminuito i prezzi del 70 per cento se vi siete appena affacciati a questo mondo se siete dentro da 30 anni e siete su ghetti e guadagnate ancora bene fatemelo sapere qui sotto in un commento e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale